Il progetto NIRVANA, finanziato dal PSR 2014-2020 della Regione Lombardia, mira a divulgare informazioni e conoscenze sull'uso corretto della strumentazione spettroscopica NIR portatile nelle aziende zootecniche e nei piccoli caseifici. Il Neospettra è uno strumento commercializzato dalla CUR. È un FT NIR reso portatile grazie alla miniaturizzazione dell'interferometro di Michelson. Il suo intervallo spettrale è per questo leggermente più ampio, coprendo il range compreso tra 1300 e 2500 nanometri. Le calibrazioni possono essere sviluppate dall'utente oppure acquistate dalle aziende partners. Tra le diverse applicazioni risultano interessanti nell'ambito del progetto la sua applicazione in riflettanza diffusa su foraggi e in trasflettanza sul latte. Lo strumento funziona tramite un'app dedicata da installare su smartphone che consente di impostare il nome del campione, il numero e il tempo di scansione e acquisizione e permette di calibrare lo strumento. Per la calibrazione è necessario coprire la sorgente con l'apposito accessorio e premere il pulsante Calibrate sull'applicazione. Calibrate sull'applicazione. Calibrate sull'applicazione. Calibrate sull'applicazione. Al termine delle scansioni il software restituisce gli spettri acquisiti che vengono salvati in cloud. Dal portale è possibile poi sia scaricare i risultati, sia costruire i modelli esternamente, ma anche effettuare predizioni con i modelli acquistati. Per maggiori informazioni seguiteci sul nostro sito web inquadrando il QR code qui riportato.